Il taglio vecchio lo vedete perché è stato fatto un taglio vecchio. Il taglio vecchio è qui, dove il legno è marrone. Questi, intanto che lui comincia a provare, vi potete vedere che sono un paio di forbizioni che ci danno la possibilità di andare a fare la scelta in contatto. Il taglio vecchio diventano utili quando si fa la parte superiore, per non piegare completamente con la schiena. Lui è andato a fare il taglio vecchio, la forbizione è mantenuta sempre in posizione orizzontale. Nel momento in cui andate a tagliare, inclinando la forbizione, fate il buco. L'ideale. 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 Sì, non ho appena avviato. Guarda qua. C'è un bel bel. Non le controllo. Qui anche per il sito. Se la faccia e dove vedi già la linea. Grazie Occutati di questo pezzettino qui Questo pezzettino qui deve essere perfettamente verticale A piombo Come lo vedi? Lo vedi non stanno così Ma guardando Quindi guarda E qua io tiro fino a piombo Questa roba qui è fuori Siamo posto? 6 il mio d'occhio la linea il mio d'occhio 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 Grazie a tutti.